E allora ci, quasi nel caso, di un vicino in alza piedi, dove è vero questo? E allora ci, senza dussare, tra le ciglia di un bambino, per potersi adormentare. E allora ci, quasi nel caso, di un vicino, per stracci amare, dove è un lusso e la fortuna, che bisogna da lui. Ohno handheld! Ioох! Io. Arrivo, 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 arrivo! Ciao a tutti ragazzi! È stato bello? Io ciao al mio jet privato, perché sta attento! Ve lo faccio, se tu le voit, guarda e compici! No, non ho capito. Leonel lawn! Grazie a tutti, vi voglio bene, chiamo chiamo